Benvenuti a chi ci sta seguendo su Milano All News, adesso 10 secondi torniamo in diretta anche su Cristal Radio. E questo era Neymar Eiza, bella si chiama la canzone, però se lo dici da solo non è facile comunque, sono gli altri a dovertelo dire. Comunque allora, come sempre lo sapete iniziamo con le notizie che arrivano dalla nostra città, scartabiliamo un po' i giornali locali che abbiamo qui davanti, versioni online, versioni cartace, cerchiamo notizie in giro. Che cosa dicono i giornali, Carlo, Lorenzo? In apertura c'è la notizia del triste incidente, un altro triste incidente che ha coinvolto una ciclista, 55 anni, ieri sera lungo il Naviglio Pavese. Eh sì, lungo il Naviglio Pavese, appena dopo il sottopassaggio al ponte di Ascanio Sforza, appena uscita dal tunnel, dal ponticello, presa in pieno dalla macchina, anche qui ricordo ancora il posto di qualche giorno fa, anzi di due giorni fa, di Simone Lunghi che diceva smettiamo di dire che questa signora è stata tirata sotto da una macchina, no, c'era un guidatore che guidava questa macchina, insomma cerchiamo anche di far capire che la responsabilità è nostra, è nostra, è degli umani infatti, quindi insomma però è veramente grave la situazione, la signora da quanto ho visto, da quanto dicono i giornali appunto è ricoverata in coma con un trauma cranico. Al Niguarda e insomma vedremo un po' come evolverà la situazione, di sicuro qualcosa bisogna fare però, c'è questa città a 15 minuti, è reciclabile e tutto, però insomma se ogni giorno, e poi soprattutto quando c'è un incidente, l'incidente è così grave. Sì, è vero, vabbè bisogna anche dire che forse non arrivano alle cronache quelli non particolarmente gravi ma ci sono sicuramente, sono in una quantità incredibile in una città come Milano, sicuramente bisogna prendere atto del fatto che è necessario ripensare un minimo la mobilità, perché se veramente vogliamo la cosiddetta mobilità green, la città in 15 minuti eccetera eccetera, tutti questi bei slogan bisogna comunque prendere una posizione, perché così sicuramente non è la strada per arrivarci, questa non è la strada per arrivarci. No, non è la strada per arrivarci e soprattutto appunto in una città che vuole diventare sempre più europea, sempre più green e tutto, insomma è un problema, è complicato ed è difficile. Cos'altro troviamo sui giornali, ieri abbiamo mandato una foto, colleghiamoci alla notizia di ieri che abbiamo dato, ieri pomeriggio poi abbiamo mandato una foto di Gagliani che distribuiva, cosa è successo? Gagliani, ne stavamo parlando ieri, se non ci avete seguito, male male male, ma ve lo ripetiamo perché siamo di buon cuore, Gagliani che appunto è in lizza per prendere il seggio lasciato libero dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi in Senato, ha regalato il primo giorno di scuola degli astucci del Monza ai bambini delle scuole, mentre Marco Cappato sta valutando la controffensiva. No, non sappiamo niente, cercheremo comunque di raggiungere Marco Cappato e il suo entourage perché abbiamo dei contatti, quindi vediamo se riusciamo a saperne qualcosa, perché appunto è anche soprattutto capire cosa dice di questa uscita di Gagliani, insomma che sì, è per il Monza ufficialmente, però effettivamente lui che è candidato in questo momento, insomma è sul limite del rasoio della Parcondicio, comunque insomma è un po' complicato. Per essere gentili, per essere gentili. Per essere gentili. Qui alle 7 e 17 minuti su Crystal Radio, martedì 12 settembre, vi ricordo il numero di Whatsapp 3317853555, c'è già arrivato il primo buongiorno dall'interista Andrea che ci scrive un semplice e però efficace, buongiorno, buongiorno a te. Adesso per me è un buongiorno. Perché te con cui non ti ha detto buongiorno? Al momento nessuno mi ha detto buongiorno. No, prima quando sei arrivato ho detto oi, così si effettivamente ha fatto un verso gutturale che voleva dire buongiorno, però era più un verso un po' troppo gutturale. Guarda, per arrivare sono passato sulla cercovalazione di fianco a una camionetta dell'Amsa, mi ha dato un buongiorno più caloroso del tuo. Ecco, infatti, immaginavo, immaginavo. Anche sicuramente più odoroso. Comunque, andiamo avanti Lorenzo, cosa c'è dei nostri giornali quotidiani locali? Allora, riparte due, diciamo, molto sostanziose come notizie molto sostanziose. La prima riguarda la sanità e perché parte il Maxi Piano in Lombardia per recuperare oltre 20 mila prestazioni tra ricoveri e visite rinviati per la pandemia e poi citiamo il fatto che il Comune ha programmato per il prossimo 22 settembre un tavolo, il Sindaco ha convocato un tavolo per fronteggiare il caro case per gli studenti adesso, in queste settimane di ripresa per tutti gli studenti e cogliamo anche l'occasione per fare il buona scuola, il buon rientro a tutti gli studenti che oggi iniziano ad andare a scuola. E sì, oggi sono tanti, anche se ieri a un certo punto mi sono ritrovato, stavo andando verso l'Esse Lunga, mi sono stato attorniato da ragazzini che uscivano da scuola, quindi qualche scuola ha già iniziato qui in quartiere e è stato un po' traumatico, anche perché sono piccolissimi ma sembra che ha 40 anni l'uno ormai, tu li vedi sono più grandi di me, anche, cioè nel senso sono pazzesco, come si dice, non so cosa gli diano da mangiare in questo caso, questo era l'angolo della frase fatta, del qualunquismo, infatti, infatti. E allora, 7 e 22 minuti, Crystal Radio ancora qui per raccontarvi un po' quello che succede nella nostra Milano, fra poco avremo molto tutto anche il collegamento con Luce Verde per la situazione del traffico nella nostra città e dopo, visto che prima parliamo di scuola, ti anticipo, adesso poi sicuramente non funzionerà qualcosa, come al solito, non l'anticipiamo, no, 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 non mi piace questa roba dell'hype, queste robe qui, anticipo che invece avremo un collegamento con qualcuno che oggi inizia la scuola e non è un professore, è una cara bimba di, non so, bimba, ho mai già da 64 anni, di seconda media, ci colleghiamo con qualcuno che inizia e sentiamo un po' quali sono, quant'è il sentiment. Ma sono belli i primi giorni di scuola. Sì, ho un bel ricordo di quando è finita la scuola, forse è il giorno che la demoliranno la mia scuola, ho un bel ricordo, no, 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 non ho dei bei ricordi degli anni scolastici. Voi sì, invece? Beh, io penso sia una roba molto soggettiva piuttosto che di generazione, ecco, io sì ho un bel ricordo, però mi sono trovato molto bene, ecco, tutto dipende da quello. Bullizzavano? No, stranamente, con tutte. Io invece qui confesso, e so che faccio un po' schifo, di essere stato bullizzato, ma in me anche bullo, sì, ho fatto tutto il giro a 360, sì, effettivamente, e vabbè, vabbè. Comunque, comunque, diteciò anche voi. C'è tutto in prescrizione. C'è tutto in prescrizione, spero, e chiedo scusa a chi è stato bullizzato da quello stronzetto di Fabio Ranfi da ragazzino. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, voi che ricordi avete della scuola, eh, come era, era bello svegliarsi la mattina con il freddo, uscire. Vabbè, non volevo dire questo, non volevo dire questo, era bello una volta che eri lì. Era bello, e soprattutto, avete imparato qualcosa? Ne parliamo dopo, adesso a Luce Verde. 7.32 minuti, torniamo dopo, appunto, la doppia canzone, qualche consiglio per l'acquisto e la Luce Verde che parlava di traffico, tant'è che anche un, c'è arrivato un whatsapp al 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5 che parla anche lì di traffico, diciamo, no? Cosa dice Alberto? Buongiorno, innanzitutto, buongiorno amici di Milano, di Good Morning Milano, oggi riparte la scuola e tornano i soliti problemi di viabilità in una Milano dei tanti lavori pubblici, privati e stradali. Scusate, non leggo benissimo da lontano. Scusate, perché la miopia si fa sentire, ma è un male che accomuna tanti di noi, quindi non c'è problema, caro il mio Lorenzo. E vede sì, vede sì, Alberto, è vero sì, torna da scuola, quindi tanti se ne vanno a scuola, saranno magari contenti, ma vuol dire tante macchine in più che portano i nostri sti pargoli che non sono capaci di camminare. Esatto, esatto. Io ricordo benissimo quando andavo a scuola e c'era la mamma e il papà del bambino che abitava a 500 metri da scuola, che veniva perennemente accompagnato con il suvone. Allora, io devo dire che la verità è che io ho fatto la mia vita scolastica andare a scuola in macchina, perché non avevo la scuola vicino a casa e non ho mai capito se era una coincidenza o se l'hanno fatto apposta, cioè sceglievano delle scuole che erano sulla strada che mio padre faceva per andare al lavoro. Infatti quando ho cambiato lavoro, per fortuna ho avuto il motorino. Ma mio padre era uno di quelli che però diceva, no, io lì davanti a scuola non vengo, mi fermo a 800 metri perché sono più comodo e quindi in realtà io comunque facevo la camminata per andare a prendere la macchina e poi c'era anche la macchina. Quindi insomma c'erano anche queste cose. Quindi non c'è l'intasamento diciamo classico davanti alle scuole che spesso c'è, tanto che adesso stanno pensando di fare le vie scolastiche, no? Le vie scolastiche. Cioè ci sono le vie scolastiche, le vie scolastiche, ma molti si lamentano perché dicono, no, ma noi vogliamo che venga chiusa al traffico tranne che per i genitori, cioè in modo che, c'è l'assurdità, no? Dicono, vogliamo riuscire ad arrivare comunque sotto scuola. Perché nelle vie dove ci sono le scuole ci sono solo le scuole secondo loro. No, non è così. No, no, non è così. Invece una bellissima iniziativa che ho visto durante la Civil Week di maggio, ma che poi ogni tanto so che viene fatta, è alla rinnovata Pizzigoni dove chiudono proprio la strada per tutti e i bambini possono tranquillamente scorrazzare in mezzo alla strada e anzi, quando arriva il bel tempo fanno anche delle lezioni in mezzo alla strada. Dicemi, Lorenzo, vedo che stavi leggendo delle cose. Se è fattibile, faccio solamente una cosa su questo, se è fattibile è bello, però non mi sa tanto di città utopica questa roba qua, dei bambini che scorrazzano liberi, fuori, cioè comunque se ci sono, se sono strade che sono arterie importanti e le scuole sono anche su arterie importanti. Forse proprio l'errore sta lì, forse le scuole non andrebbero mai essere sulla circovaluazione, sulle arterie più importanti, no? Stavamo leggendo, stavamo commentando fuori onda questa notizia riportata dalla Repubblica Milano, che appunto riporta il fatto che sempre più persone che affittano, che mettono annunci per cercare persone e studenti per riempire le proprie case fanno un annuncio con la settimana corta, cosa vuol dire? Che dal lunedì al venerdì... La settimana corta non lavorativa ma d'affitto, com'è questa storia? D'affitto, dal lunedì al venerdì, poi sabato e domenica uno non sa dove andare, però dal lunedì al venerdì evidentemente costerà meno. È fatto per i fuorisede, credo, no? Così che dicono, così te ne torni a casa il weekend. Sì, con i biglietti dei treni, eccetera, che costeranno quasi quanto la città più cara d'Italia. Sì, mi sa di sì, mi sa di sì. Però insomma, stanno arrivando questa opzione. Secondo me sotto in realtà c'è la voglia da parte di alcuni di fare il doppio gioco, diciamo, cioè dal lunedì al venerdì te l'affitto a te studente, sabato e domenica Airbnb, così almeno tac... Così nel weekend mi danno quello che mi dà i tenni in una settimana. E quindi faccio il doppio, può essere, può essere. Però noi pensiamo male. Noi pensiamo male, pensiamo male. Ma come chi diceva, a pensare male? A pensare male si pensa bene. La cosa del genere, va bene, ecco. Scriveteci al 331-78-53-555 dove c'è appena scritto anche... Arrivano dei messaggi... Allora, c'è scritto Erika che dice Era bellissimo andare a scuola, peccato quelle arpie delle mie compagnie. Vedi che tutti girano intorno a questo tema qua. Comunque dice, ho imparato tanto in realtà. In primis le tabelline e le proporzioni che utilizzo tutti i giorni. Non so che lavoro faccia per fare tutti i giorni le proporzioni e tabelline. Ma che lavoro in... Non molto invidiato, almeno da me. Non so, sì, infatti no, neanche da me. Ci scrive anche Katia, sempre al 331-78-53-555. Buongiorno Cristal Radio, buongiorno ascoltatori. Anche stamattina in vostra compagnia. La mia vita scolastica è superiore e alle medie a poche fermate di autobus da casa. Comodo. Elementari? A piedi. E' bello, è comodo. Io elementari a piedi, medi a piedi e superiori un'ora di tragitto. Capito. Cioè, pensate ai glutei di Lorenzo. No, non a piedi. Ah no, pensavo a piedi, un'ora di tragitto con i mezzi, passando treno e metro. Ti sei fatto dei bei glutei, invece no. Ma comunque c'è chi dice che comunque hai dei bei glutei, so che ti gira questa voce. Gira questa voce in zona San Siro. In zona San Siro gira questa voce. E allora andiamo avanti, un po' di musica ancora qui su Cristal Radio alle 7.38. Parlavamo di San Siro, dove c'è questa voce che gira, che tu abbia dei glutei pazzeschi, non so come mai. Insistente. Insistente. Insistente voce. Invece c'è qualcosa di proprio importante. A San Siro quando? Stasera. Stasera c'è Italia-Ucraina. Partita di calcio che appunto si giocherà a San Siro. Penso che... Ma valida per qualcosa o amichevole? No, no, no. È valida per le qualificazioni all'europeo. All'europeo. All'europeo dell'anno prossimo dopo il triste pareggio contro la Macedonia del Nord. Ma io vorrei capire una cosa. Adesso qua poi so che polemiche e tutto. Ma con tutti i problemi che c'è l'Ucraina. Deve pensare a fare gli europei. Penso ti candidi. No, nel senso. Mi fa sempre un po' specie quando ci sono queste squadre di paesi che sono in un momento un po' problematico della loro esistenza. Sono un po' colunquista in questo forse. Vabbè, ma se lo sport ha quella funzione diciamo di sociale che magari in origine aveva... Mi viene in mente il famoso film sull'Apartheid dove appunto con il rugby cercherono di risolvere il problema in Sudafrica. Ragazza Mandela appunto che cercò di fare questa grande squadra di rugby che poi appunto vinse e portò in giro nel mondo l'idea del nuovo Sudafrica. Dobbiamo fare anche dei saluti perché parliamo di scuola appunto. Primo giorno di scuola. Quest'oggi è il primo giorno di scuola del signor Jacopo. Sei anni. Buon primo giorno di scuola. Sei anni ma è già un signore. C'è già un piccolo ingegnere. Un piccolo ingegnere nucleare credo. Cosa del genere. Una sorta di Oppenheimer 3.0. e è pronto ad andare a scuola. Primo giorno di scuola. Primo giorno di scuola della prima elementare. Sicuramente. Tu te lo ricordi hai detto? Sì. Io no. Sì. Un vuoto completo. Ho una foto che testimonia il mio primo giorno di scuola che sostanzialmente io ricordo... Sai quei ricordi nitidi che hai anche se non hai l'età per ricordarti le cose? Sì. Ho un ricordo simile di molto più piccolo. Quattro anni. Forse tre anni. Ma forse indotto da una fotografia come dici tu. di io sulla seggiolina alla fermata del treno, alla stazione di Pietraligure. Vedi? Però c'era già la stazione dei treni già all'epoca. C'era l'epoca. Esatto. Esatto. E tu ricordi precisamente... No, ricordo perfettamente che mio padre ha detto ti faccio la foto perché questo è il primo giorno e poi questa qua la rivedremo tipo l'ultimo giorno, una roba del genere. Perché io una delle prime cose che chiesi, a detta sua, è quella di quanto tempo mi manca per finire la scuola. Ah beh, avevi già capito come funzionava. Sì. Sì, sì. E se ci piacciono, quanti sono? Sono cinque anni di elementari. Tre anni. Tre anni di medie e cinque superiori. Quindi fanno dieci, tredici. Giusto? Fanno bene il conto. Poi, non vuoi fare tre anni di università? Beh, certo. Quindi siamo a sedici. Più altri due. Diciotto, giusto? Diciotto. Diciotto anni più o meno. Diciotto. Se vuoi far arrivare fino alla laurea magistrale. Poi, se vuoi fare un master di secondo livello, buttacelo dentro. Poi, quanti anni di stage vuoi fare? Almeno quegli otto, nove anni di stage non li vuoi fare? Si va lunghi, si va lunghi. Quindi diciamo che intorno ai 42 anni riesce a uscire di casa e intorno ai 50 anni avere un contratto. Va bene, insomma. This is Italy, diceva qualcuno una volta. Non so chi. Comunque, ricordiamo. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Questa sera, a che ora è la partita? 20-30, 20-45. 20-45. Quindi se potete stare lontani dallo stadio, meglio. Ma perché non penso che ci sarà un grande casino, dai. Beh, insomma. È importante, è importante questo partito. How does it feel? Come ti senti? Beh, eh? Bene, bene, bene. How does it feel? Sì, come ti senti? Sì, no, non l'avevo semplicemente capito perché l'hai veramente stretto. Eh, ho fatto la crasi. Ho fatto la crasi. A proposito di non capire cosa che si dicono, no? Ah, ok. A proposito di quello. Sì, faccio un foregrabbi. Ecco, appunto, ad esempio. Ieri sera sono andato al cinema. Ho visto, ho visto. Prima notizia, non mi sono addormentato durante il film. Che già questo è una grande conquista. Seconda cosa, ho visto un gran, bel documentario. Enzo Giannacci, vengo anch'io. Ancora questa sera e domani al cinema, sbrigatevi che poi non c'è più. Ho visto degli spezzoni. Fantastico, ragazzi, fantastico. E ho capito di essere un genio. Tu? Sì. Non lui, tu. Io, grazie a lui e grazie all'intervista, ho capito che io sono un genio. Vabbè, posso chiederti perché, non voglio. Perché quando vi mando i messaggi di Whatsapp o le telefonate, voi cosa fate? Non capite mai niente di quello che vi scrivete. Eh no, no, parli velocemente. Ecco, anche Giannacci faceva così. Ho capito, ma non vuol dire. Siamo dei geni. Non vuol dire. Siamo dei geni. Ho capito che sono un genio. Basta. Ho avuto la certificazione di genio ieri sera. Vabbè. Comunque. Le plus valenze. Tornando sulla carreggiata, viva queste iniziative qua, anche solo di pochi giorni, che portano le persone nel cinema. Bello. Interessante. Emozionante. Cade la lacrimuccia, ovviamente, pensando a quanto ci manca, Enzo Giannacci. Però davvero, davvero un bel, bel, bel racconto anche di una Milano che non c'è più. Che ci piacerebbe che forse ci tornasse, ma che non tornerà mai ovviamente. Ma che per certi aspetti in realtà non ci ha mai lasciato. Perché insomma quella comicità un po' surreale, un po' quel modo di fare camare milanese. Che comunque in realtà se si va a guardare bene, nonostante non esistono più praticamente i luoghi fisici in cui riuscire a... Adesso poi c'è la stand-up comedy che sta prendendo un po' piede, ma è veramente complicato. Tra parentesi appunto nel documentario c'è anche Lundini. Lundini fa un piccolo passaggio in cui racconta appunto quanto comunque Giannacci ha ispirato anche la sua carriera. Oltre a tanti altri, Battantuono, Frassica, ovviamente Cocherenato e tutta la banda. Comunque c'è ancora un po' quella roba Milano. Il problema è trovarla. Perché è veramente difficile. No, andavi al derby, andavi a Bianca. Esatto, stavo dicendo. Prima c'era il derby, poi c'è stato lo Zelig. In una recente intervista di Paolo Rossi, in un famoso podcast che mi invito a recuperare, parla molto di Giannacci, il suo rapporto durante il derby, dopo la prima apparizione di Paolo Rossi al Maurizio Costanzo Show. C'è un anneduto molto divertente che coinvolge anche Berlusconi con Giannacci. E nulla, sì, prima c'erano i posti. Prima era condensato tutto in un posto, forse. Adesso mancando quello, dice più difficile. E poi chiaramente il tempo va avanti e quel tipo di, non so, di romanticismo milanese, chiamiamolo. Eh sì, sì, sì. È un romanticismo. Tra parentesi, spiega bene la storia, tutto il documentario spiega bene la storia degli inizi. Pensa agli inizi che vedono intrecciarsi le storie di Adriano Celentano, con quella di Giannacci e Giorgio Gaber, che quindi partono in realtà dagli stessi luoghi e poi fanno ognuno la sua strada. Allora a questo punto ho pensato che ovviamente non possiamo che non ascoltare qualcosa di quel giorni lì. Eccoci ritornati a Good Morning Milano e come ogni programma radio abbiamo anche nella rubrica della posta del cuore. Quindi sentiamo se c'è in linea qualche ascoltatore e sentiamo il suo messaggio d'amore. Sentiamo, vai con la regia. Radio Station, i Rockets, alle 8.09 su Crystal Radio. E mentre sotto abbiamo Radio Station dei Rockets, da una radio station ci colleghiamo invece con una casa, credo in questo momento ancora, credo che non sia ancora uscita, ma non lo so, lo chiediamo a lei. Abbiamo al telefono Giorgia che oggi inizia la scuola, la seconda media, giusto? Buongiorno Giorgia. Ciao Fabio, si inizia la seconda media. Allora, seconda media, dove vai a scuola? Rinascita. La rinascita, è famosa, è una scuola famosa credo a Milano, di quelle che fanno anche delle cose abbastanza innovative se non sbaglio. Allora, è la seconda volta però che inizi la scuola quella importante, è un po' più facile questo secondo inizio? Allora, sì, è più facile, ti senti più rilassato perché conosci un po' tutti. Ci saranno qualche, c'è qualche novità quest'anno? Non so, nuovi compagni che tu sappia, hai perso qualcuno lungo la strada, non so, c'è qualcuno che se n'è andato perché si è trasferito, no? Non si sa, non si sa, è tutto, no spoiler, perché è tutto avvolto nel mistero. Sì, sì, fino al primo giorno di scuola non sai chi trovi, se trovi qualcun altro che sei iscritto. Ma con Whatsapp così c'è di iscritto, sai tutto quello che succede? Ma lo sanno i professori, mica lo sanno i studenti. Ma tu non hai il numero di telefono di un professore per poter chiedere? Sì, ce l'ho, ma alcuni non mi rispondono. Ma scusa Giorgia, non rispondono a te o non rispondono in generale? Cioè vorrei capire se hanno un problema con te. In generale, no, in generale. Altri, è un po' complicato, io l'ho chiesto sul gruppo che abbiamo, mi hanno risposto in due o tre. E cosa dicono questi due o tre? Che sono stati promossi. Ah, ok. Ah, perché non sai neanche... Ma sai chi è stato... No, non sai neanche di tutti quelli... Quanti eravate in classe l'anno scorso? Sì, no, lo so. Ah, lo sai, ok, ok. Quanti siete in classe circa, più o meno? 19. 19? Beh, 19 è un numero abbastanza tollerante, cioè se si riesce... Rispetto alle cosiddette... E in un gruppo ce ne sono 13. Ah, ok, ok, ok. Io ero 27, mi ricordo. Anche, anche, io speravo i 30. Sì, sì, eravamo allucinanti. Ma le medie, non so, parli superiori, le medie. Sì, sì, è una cosa allucinante. Vabbè, ma cosa bisogna fare per prepararsi al primo giorno di scuola? Allora, secondo me la sera prima devi intanto preparare la cartella e come ti vestirai, che lo consiglio ai genitori. Ah, sì, non hai chiesto consiglio, non so, a Chiara Ferragno o qualcun altro del genere. No, ai genitori. Ai genitori e per chi ce l'ha, sorella o fratello. Ah, ok, perfetto. Tua sorella nene cosa diceva? Come voleva farti andare a scuola vestita? Allora, lei ha visto l'outfit finale, consigliato rigorosamente dalla mamma. Ok. Che la saluto anche. Salutiamo la mamma. Come si chiama la mamma? Silvia. Silvia, salutiamo mamma Silvia. Ma tu sei d'accordo con l'outfit scelto da mamma Silvia oppure avresti voluto alto? Molto, sono molto d'accordo. Ah, molto d'accordo, meno male. C'è stata una trattativa nella gestione dell'outfit oppure vi siete subito trovate concordi? No, allora, io propongo e poi lei migliora. Ah, lei migliora? Beh, cavo. Quale attestato di stima più grande di una figlia per una madre, no? Cioè, capito? Non gli ha detto, poi lei mi toglie le cose belle o peggiora, come avrei detto io invece, un po' bambino infame. Invece no, lei ha detto... È la prima volta che sento la mamma. Brava, brava. Ma Giorgio, insomma, è seconda media, ma già ha la sua carriera già avviata. Quanto è importante l'outfit del primo giorno di scuola? Secondo me è abbastanza. Abbastanza. Cioè, nel senso, non è tutto quello che conta. Ok. Però ti fa apparire ordinata. Ordinata, mamma mia, bellissimo. Domanda o punto dolente, non so, adesso vedremo come risponde Giorgio, ma mi sa che ho già capito dove andremo a parare. Compiti delle vacanze, finiti? Allora, sono finiti, me ne sono tirati un po' alla dietro. Ah, li hai finiti, cioè, ieri sera in Estremis? No, 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 ieri sera. Gli ho finiti domenica. Vabbè, l'altro ieri. Va bene, va bene. Sì, ma se non compiti delle vacanze, non compiti dell'ultimo weekend. L'importante è averli fatti, l'importante è presentarsi e averli fatti. Io confesso che ne facevo la metà, ovviamente. E l'altra metà dicevo, maestro, ho fatto le vacanze. Ma scusami Giorgio, ci sono ancora quei libroni lì che prendono insieme italiano, matematica, eccetera, come compiti delle vacanze? No, allora, nella nostra media ci hanno dato i testeni, delle schede, poi il problema da leggere. Sarà tutto informatizzato adesso, no, non so, non c'è su Classroom delle robe da fare, no, non funziona così. Giorgia? Sì? Eh, dicevo, sarà tutto sul computer adesso, no, non so, non c'è Classroom, non caricano lì i compiti, no, c'hanno ancora le cose cartacee che ti danno in mano? Sì, ma, cioè, se li danno anche in mano, ma poi li caricano anche su Classroom. Ah, vedi, cioè, capito. No, ma che quando c'era Lorenzo c'erano ancora le cose di c'era. C'era, ma sì, ma l'avrei avuto anche te all'elementare, il librone, quello delle vacanze, con tutte le cose animate, i cartoni. Animate? Cioè, a mo' di cartone. Sì, 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 sì. Giorgia, facciamo allora così, tu oggi sei ambasciatrice di tutti i neo studenti che oggi ricominciano oppure iniziano la scuola. un messaggio a tutti quanti, un in bocca al lupo generale a tutti quanti. Dai, mandalo. Buona fortuna. Generazione Twitter, generazione Twitter, qua è proprio all'osso, capito? Cioè, fai un discorso, buona fortuna, capito? Finita così. Va bene, Giorgia. Beh, sintetico mi è arrivato. Sintetico mi è arrivato, effettivamente. Oh, buona fortuna. Quanto manca? A che ora inizi? Alle 8.55. Allora, vabbè, c'è ancora tre quarti d'ora per andare a fare qualcosa, per vedere qualche balletto su TikTok, oppure un paio di puntate a doppia velocità. Magari, a dare il tiktok. Ah, ecco la polemica con mamma Silvia che arriva, vedi? No, no, questa è più papà. Ah, è papà. Eh, beh, no, su papà non posso dire niente. Sono solidale con la categoria degli uomini, appunto, perché non sono papà. Se voi ti do un tiktok così, va bene. Grazie, Giorgia. In bocca al lupo anche a te. Ciao, Giorgia. In bocca al lupo. E buona fortuna a tutti gli studenti che oggi, appunto, andranno a scuola. Grazie mille, Giorgia. Ciao. Olli, tutto con te. Futuring Julie. Molto, molto estiva. Sì, molto estiva. Molto estiva. Infatti non vedo l'ora che finisca l'estate. Sì, anche io. 8 e 19 minuti, martedì 12 settembre. Ci stiamo avvicinando alla fine della mezz'ora, no? Della, prima, seconda, terza mezz'ora, giusto? Sì, ho dovuto fare i conti. Sono quattro. Ho dovuto fare i conti, però, della terza mezz'ora, o meglio, dell'ora e mezza in vostra compagnia, per poi, dopo, appunto, nell'ultima mezz'ora abbiamo anche un ospite che è già arrivato qui in sede, lo vedo al di là del vetro della regia, che è Walter Cherubini, presidente della consulta Periferie Milano. Parleremo di periferie, no? Ieri stai che ho fatto un po' quella polemica con Bolle, ovviamente poi è andato avanti tutto il giorno, io e Roberto ci siamo sentiti, insomma, è stata una giornata impegnativa a cercare di spiegargli che non è che era la sua iniziativa che non andava bene, è l'iniziativa lodevole, l'iniziativa del ballo in piazza, praticamente. È il luogo, è il luogo. È il luogo che dice, Roberto, cerca un posto un po' più periferico. E lui diceva, a me non sono di Milano, non lo sapevo, dimmelo tu. E allora adesso vediamo per la prossima edizione. Come i turisti che pensano che tutto ciò che c'è di bello a Milano stia dentro. Eh sì, è bravo, poi non lo sanno che, non so, c'è il cavallo di Leonardo che ha l'ippodomo di San Siro, che deve prendere una linea a metro, farti due pezzi a piedi e perderti, perché non ci sono neanche le indicazioni per arrivarci, però è bellissimo. È una delle state equestri più grandi del mondo, pensa. Mi fa ridere che tu sappia che è una delle statue equestri. Sì, no, perché in realtà io ho visto la state equestre più grande del mondo. Che è? In Macedonia nel nord. In Macedonia nel nord. Che ci ha battuto, che ci ha pareggiato. Quando sono lì, mi è venuto in mente che questa qui è la state equestre senza cavaliere più grande del mondo. Ma che classifica è la statue equestre senza cavaliere, scusami. Non lo so, però è così. Una delle poi... No, 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 senza cavaliere è la più grande. Ah, ok. Cioè, se dimenticiamo che con i cavalieri ce ne sono un po', che sono grandi, no? Ce ne sono una in Mongolia, su Giscan, che è gigantesca. Comunque appunto, vedi, ridendo e scherzando, è finita anche questa mezz'ora. Ci vediamo fra poco. Doppia canzone, qualche consiglio per gli acquisti. E torniamo qui con voi, sempre in diretta, sempre qui su Crystal Radio, perché lo sapete, Milano si sente e parliamo, come dicevo prima, di periferie fra pochissimo, insieme a Walter Cherubini della Consulta Periferie Milano. 8 e 32 minuti e siamo arrivati al momento del nostro ospite della giornata. Chi è l'ospite della giornata di oggi? Walter Cherubini, Presidente Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. Ben ritrovato per Milano News e ben arrivato invece su Crystal Radio. Partiamo. Quante puntate siamo su Milano News ormai, più o meno? Siamo oltre 150. 150, raccontiamo, 150 puntate in cui mi ho raccontato che cosa? Abbiamo cercato di porre un'attenzione costante, settimanale, dal punto di vista della comunicazione e dell'informazione sul tema delle periferie. Periferie urbane. La sottolineatura periferie urbane perché? Perché l'MIT di Boston ha calcolato che ci sono oltre 200 utilizzi diversi del termine periferia. In tutto questo bailame, le periferie infatti rimangono periferie perché si vede che non ci si intende molto. Noi fissiamo il termine periferia urbana. Periferia urbana che è quella di una grande città, una metropoli magari seppur piccola come Milano, ed è quella fascia, per esempio a Milano, che va sostanzialmente dai confini comunali alla cerchia della 90-91. Quella cerchia della 90-91 che nella sostanza si sovrappone agli antichi comuni milanesi, aggregati cento anni fa, che vuol dire Musocco, vuol dire Niguarda, vuol dire Baggio, vuol dire Lambrate. Vuol dire Vigentino, vuol dire Chiaravalle Milanesi, vuol dire Undici Comuni, vuol dire Greco, vuol dire Trenno, vuol dire Gorla Precotto. Insomma, Undici. E anche, ricordiamoci, anche Turro, che è stato comune autonomo fino al 1918. Ce lo perdiamo sempre, lo ricordo, una fermata della metropolitana. Ecco, in questo scenario noi abbiamo cercato di porre all'attenzione non facendo una, diciamo così, narrazione delle periferie, ma ospitando una serie di persone, di associazioni, che agiscono sul territorio e quindi ha un'occasione per loro per raccontare alla città quello che fanno, perché è uno dei problemi fondamentali di Milano e che Milano non conosce Milano. E lo diceva, tu dici sempre un esempio importante, perché lo diceva qualcuno già un qualche centinaio d'anni fa, giusto? Sì, diciamo più di qualche centinaio d'anni fa, dall'arriva, non solo gli stranieri, ma anche i miei concittadini dormono. Il 1200, cosa che era? Il 1288. Il 1288. E nell'occasione in cui scrisse le meraviglie di Milano, o meglio, la magnificenza di Milano, poi abbiamo tradotto le meraviglie per non essere troppo bausche, diciamo così, e quindi disse, non solo gli stranieri, ma anche i miei concittadini dormono nel silenzio dell'ignoranza e non conoscono le meraviglie di Milano. Quindi, il tema di fondo è che se uno si trova in una realtà dove sta bene, sta bene, ma non sa nemmeno che ci siano quelli che magari stanno male. E quindi anche quel che rimane, guardiamoci in giro, non è strutturato per essere esercitato. Non vorrei dire una cosa difficile, ma se io non so che uno sta male, come faccio? Ma se non so nemmeno che esiste. Per quello che, legandomi un attimino anche al discorso del centenario, il centenario degli antichi comuni milanesi, 14 dicembre 1923, data sconosciuta a tutti. Per Milano è una data fondamentale, perché passa da 76 chilometri quadrati a 181 chilometri quadrati, più che raddoppia. Potremmo dire quasi che è il compleanno della nuova Milano, quel giornalino, perché proprio nasce la Milano che conosciamo noi adesso. Quella che fu ipotizzata come la grande Milano ai tempi, nel 1923. Però c'è un passaggio di 50 anni, dal 1873 al 1923. Nel 1873 che cosa avvenne? Che l'allora comune di Milano, che è il centro, grande 9 chilometri quadrati, sindaco Belinzaghi, prende e aggrega il comune dei Corpi Santi. Una ciabella intorno con, diciamo così, una sciabolata che va giù verso il Grastossoio, più a sud, tanto per intenderci. E quindi da 9 passa a 76 chilometri quadrati. Allora, focalizziamo il sindaco Belinzaghi. Poi da 76 annette poi nel 1923 anche gli altri comuni e diventano quanti i chilometri quadrati? 181 chilometri quadrati. Allora, adesso noi abbiamo i tempi radiofonici, dobbiamo ascoltarci un brano, ma vi lasciamo con questa domanda. Come faceva il primo sindaco a gestire da Palazzo Marino quanti ne gestivano? Dicevamo 9 chilometri quadrati. Poi va bene, gli hanno aggiunti qualcuno, siamo arrivati a... 76. E poi infine... 181, che questi sono quegli due anni. Ma sempre lui, diciamo, il signor sindaco, era sempre lui, il Shur, che stava lì a Palazzo Marino e doveva gestire tutto questo, tutto questo popò di città. Torniamo invece alla nostra città, la nostra Milano, insieme a Valtaccherubini, presidente della consulta periferia Milano. Ci eravamo lasciati appunto che il sindaco nel 1800, dicevamo... 73. 73, si vede moltiplicare quasi la sua città, così, pum, del doppio, e poi nel 23 diventare quasi una metropoli, cioè una megalopoli, anzi, nel 1923. Ma diciamo nemmeno grossissima, perché Milano non è mai stata in questa anche logica circolare, chiamiamola in questa maniera. E allora il sindaco Mangiagalli, senatore della Repubblica, ma come anche il precedente sindaco del 1873, Bellinzaghi, si trova ad affrontare una condizione gestionale che va da 76 a 181 chilometri quadrati. Allora, quali sono le modalità gestionali anche? Ecco, il problema è proprio di questa natura. Con il 1923, 14 dicembre, una data sconosciuta, quindi esiste un problema didattico, cioè non è insegnato, c'è un periodo di storia. Noi abbiamo fatto, proprio in occasione di questo centenario degli antichi comuni milanesi, che di converso sono i cento anni delle periferie, perché cento anni fa c'erano i comuni milanesi. Poi sono stati aggregati, soppressa l'amministrazione comunale locale di Musocco, di Baggio, eccetera, quindi dove avevano un'amministrazione che era dedicata a quel territorio lì. L'amministrazione lì è stata smantellata, tutto quanto era di propria competenza è andato a Palazzo Marino. Allora, c'è un problema quando si dice amministrazione vicina, amministrazione distante. L'amministrazione è andata a Palazzo Marino, e quindi, come si sente ancora un pochettino dire, devo andare a Milano. Ecco, per risolvere i problemi del mio posto, devo andare a Milano, che non è distante in termini fisici, oggi come oggi poi, metropolitane e quant'altro. Il problema è che si concentra tutto in centro, il centro ad alte priorità. Quindi, se Milano oggi è Milano, vuol dire che quelle scelte che sono state fatte nel 1873-1923, sono state delle scelte complessivamente positive. Nello stesso tempo, però, per cui c'è una Milano attrattiva, noi dobbiamo un attimino anche andare, ed è l'attenzione che ha consulta per i ferie Milano in questi 18 anni di attività, la città abitativa. Ok. Una città per i milanesi, una città per quelli che a Milano ci vengono a fare altro. No? Più o meno. Può essere anche questo, però questo qui è uno dei termini di fondo proprio, perché il problema non è tanto poveri e ricchi, in primo luogo. La distanza porta anche a una disattenzione e quindi anche un abbandono. Quindi noi abbiamo una situazione, San Siro è uno dei quartieri che sta entrando un po' sotto la lente di ingrandimento, però, quando noi diciamo San Siro, possiamo dire San Siro Sud e San Siro Nord, tanto per intenderci. Qual è la distanza tra questo San Siro Nord? Cento metri sono lineari? Ecco, allora uno va, ci sono i quartieri popolari, che sono un problema, cioè la gestione pubblica dei quartieri non è adeguata. Ma non è adeguata proprio come tema organizzativo, lo dice anche il professor Balducci, che è stato prorettore del Politecnico di Milano, ma anche per un periodo assessore all'urbanistica del Comune di Milano, dove dice che l'organizzazione è ancora rimasta ai tempi che furono legata alle competenze, alle piante organiche, cioè è cambiato tutto il mondo la modalità di organizzare l'amministrazione e quella del 1872. Funziona così il meccanismo? Qualcosa fosse cambiato. Cioè è tutto centralistico, tutte le organizzazioni aziendali, eccetera, hanno un'organizzazione che è diversa, c'è da imparare. Allora, adesso poi ne parliamo ancora, magari qualche idea, a qualche punto voi l'avete sviluppato in questi anni, vuoi di consulta periferia. No, c'è da dire che effettivamente questa lontananza delle istituzioni, spesso e volentieri, si sente, si fa sentire, e rende tutto un po' un inferno, no? Pensa che sentivo nel radio c'era una professoressa che iniziava a Verona e ha detto proprio, no, facciamo, e noi nel programma scolastico abbiamo una parte di storia della città. Infatti, arriviamo fino alla Verona romana, cioè, spiegano man mano, ma con Legalo parliamo dei romani, a Milano ci sono stati romani, parliamo anche della Milano romana, cioè, fanno così. Allora, il tema è di questa natura, dove, didatticamente parlando, diciamo che la scuola deve dare attenzione al territorio. Il problema è che se uno sta all'Ambrate dà attenzione all'Ambrate e non si conoscono, cioè, sono città che non sono permeabili, ognuno rimane nel proprio angolo, invece ci vuole una permeabilità. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, ma siamo arrivati alla fine del nostro intervento qui insieme a Valtacrubini. Valtacrubini, punto, chiudiamo. questa problematica della... Allora, qualche declinazione operativa. Bellissimo. Innanzitutto, Consulta Periferia Milano che nasce nel 2005, promossa da una serie di associazioni che oggi sono 44, quelle che hanno fatto attività. Attività di che cosa? Innanzitutto, di far incontrare la città, di rendere permeabili tutta una serie di individualismi disciplinari. Ci sono gli architetti che si occupano dell'architettura, gli ingegneri dell'ingegneria, invece bisogna mettere insieme le cose, il mondo dell'informazione istituzionale. Per fare questo abbiamo promosso più di 200 convegni, seminari, dove abbiamo invitato più di 500 relatori, perché ci hai da imparare innanzitutto. Ci sono tantissime persone che fanno cose, docente universitaria, associazioni e quant'altro, ma il problema è che questi mondi non sono permeabili, soprattutto non sono permeabili a livello cittadino, a livello territoriale magari si fa qualche, diciamo così, rete, ma non è adeguata ad affrontare il tema della città. In secondo luogo, oltre agli incontri, anche delle attività, diciamo così, di animazione e valorizzazione. Abbiamo promosso più di 800 concerti ad ingresso gratuito. Oggi come oggi andiamo avanti con le rassegne Cori Milano. Abbiamo un gruppo di 40 cori amatoriali, mille persone che si sono resi disponibili a cantare. Informazioni di varie cose ne avete sul sito periferiemilano.com che è soprattutto per un sito di documentazione per vedere quanti teatri ci sono nella periferia di Milano. Fuori dal centro ce ne sono 109 tra amatoriali e professionali. Si dice bisogna portare la cultura in periferia. No, il problema è che noi abbiamo un paradigma dove il bilancio della scala fa 130 milioni di euro, quello del Comune di Milano 90 milioni di euro, gli otto municipi periferici hanno mezzo milione di euro. Questo è il tema. Seconda questione didattica. Didattica stiamo facendo tutta una serie di conferenze. Abbiamo incontrato più di 4.000 persone nelle biblioteche, nelle associazioni, in vari posti. Ecco, chi vuole ospitare delle brevi conferenze di 40 minuti proprio per imparare questo aspetto geografico-amministrativo che è sconosciuto. Due cose fondamentali. Periferie ogni tanto sono come una carsicità e quindi se ne parla, poi no, le periferie non esistono. i quartieri sono un di cui delle periferie. Poi ci sono i quartieri del centro, Brera, il quadrilatero della moda, il quadrilatero della moda e il quadrilatero di San Siro che sono tutti e due probabilmente quartieri però da affrontare in maniera diversa. Quindi un appuntamento il mercoledì 27 marzo alle ore 17 al negozio civico Chiama Milano facciamo un convegno che è un po' di lancio, di riproposizione dalle periferie per ripartire evitando tutta una serie di realtà proprio perché si devono parlare assieme. Lo vedo qui, il mercoledì 27 settembre del 2023 alle 17 dalle 17 alle 19 a Chiama Milano dove incontreremo. Ecco, ci sono state due cose secondo noi significative. Uno che è stata la Milano Arc Week su Around Periferis quindi Comuni di Milano Triennale, Politecnico di Milano hanno ripreso a ricentrare il tema delle periferie. Il 6 ottobre invece a Bergamo Brescia la Fondazione Bracco farà la quarta conferenza nazionale sulle periferie urbane. Ecco, noi ci inseriamo in questo 27 e poi rimandiamo agli incontri a scuola di periferie ma ne parleremo successivamente. Ma ne parleremo successivamente perché? Perché non è che ci saluti e non ci vediamo in più. Anzi, tutti i martedì tu Walter sarai qui ospite con noi per parlare con questo focus sulle periferie. Ecco, con una cosa interessante l'ultima le giornate Periferia Art Me del 15-17 adesso di settembre terza domenica di ogni mese giusto? Terzo fine settimana di ogni mese ci sono più di 20 appuntamenti per conoscere questi 166 toponimi che compongono la grande Milano attraverso i benartistici periferiemilano.com giusto? Allora periferiemilano.com oppure periferiartme.it Grazie mille Walter Cherubini a partite prossimo Ebbene sì, ebbene sì siamo andati alla fine Lorenzo anche oggi Anche oggi con la nuova sigla finale In questi giorni la cambio sempre poi dopo ci stabilizziamo prima settimana la cambiamo poi ci stabilizzeremo ogni trimestre non lo sapete di questa ogni trimestre che abbiamo la sigla c'è questa fissa di cambiare la sigla finale Allora le coordinate per domani quali sono? Sempre al solito dalle 7 alle 9 in diretta su Crystal Radio 96.2 sull'app sul sito Dub Plus mi raccomando il Dub è fondamentale ce l'avete quasi tutti in macchina non lo sapete schiacciate lì mode oppure dove una volta pensate che c'era FM AM non c'è più la M c'è il Dub Plus va bene e ci sentite anche meglio ci sentite in 3D ci sentite siamo in macchina con voi letteralmente vi mangio le patatine sul sedile di fianco facendo briciole facendo briciole ovviamente perché sono bastardo geneticamente ovviamente ovviamente sì e quindi Lorenzo appuntamento domani? appuntamento domani mercoledì mercoledì 13 settembre domani ci sentiamo ma per adesso godetevi questo martedì godetevi questo 12 settembre godetevi la musica di Crystal Radio sempre qui su 96.2.fm da Plus app e sito grazie a tutti grazie a tutti e buona giornata ragazzi grazie della compagnia ciao 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 ciao